Buongiorno a tutti. L'osteoporosi maschile è ancora meno studiata, più sottodiagnosticata e sottotrattata. In realtà la prevalenza dell'osteoporosi negli uomini è inferiore alle donne. Infatti colpisce il 7% degli uomini di età superiore ai 50 anni rispetto al circa il 23% delle donne. Anche per le fratture il 16% degli uomini va incontro a una frattura osteoporotica maggiore rispetto al 34% delle donne. Però negli uomini si osserva una mortalità più aumentata in seguito alle fratture e alla fragilità rispetto alle donne. In realtà non si riesce a capire quale sia la motivazione. C'è una morbidità associata alle fratture, nel primo anno dopo una frattura di femore il 20% va incontro a morte e poi ci possono essere delle disabilità permanenti o comunque che limitano la vita del paziente. E questo quindi comporta anche un carico dal punto di vista economico pensando a soggetti che sono ancora in attività lavorativa quindi alle ore di lavoro perso oppure ai tempi, ai costi dell'adegenza, della riabilitazione e del caregiver. E si è stimato che nel 2017 i costi annuali e i costi associati alle fratture in Italia sono stati di 9 miliardi di euro. Per cui l'osteoporosi diventa anche un problema dal punto di vista anche sociosanitario. C'è una differenza nel sviluppo dell'osso tra uomini e donne. Negli uomini gli androgeni stimolano la posizione del periostio e il riassorbimento dell'endostio per cui aumenta il diametro dell'osso. Nelle donne invece gli estrogeni stimolano la posizione dell'endostio e il riassorbimento del periostio. Quindi l'osso dell'uomo è più, ha un diametro maggiore e una maggiore resistenza. In questa diapositive ce l'ha già fatto vedere la dottoressa Votì. In effetti l'andamento della massa ossea varia nel tempo ed è differente tra i due sessi. Prima della pubertà non c'è differenza, poi con la pubertà la massa ossea aumenta in misura maggiore negli uomini, raggiunge un picco in entrambi tra i 20 e i 30 anni e poi inizia a diminuire. Negli uomini la diminuzione della massa ossea è più lenta. Infatti l'osteoporosi negli uomini è ritardata di 10 anni. E' molto importante il picco di massa ossea in quanto l'aumento del 10% del picco di massa ossea ritarda l'osteoporosi di 13 anni. E infatti si dice che l'osteoporosi è una malattia pediatrica con conseguenze geriatriche. Quali sono i fattori che influenzano il picco di massa ossea nell'adolescenza? Il picco di massa ossea aumenta con l'esercizio fisico, deve essere un esercizio di tipo aerobico e di impatto, oppure anche di resistenza. E poi con l'apporto di calcio, vitamina D e proteine con la nutrizione. Riducono il picco di massa ossea, l'alcol, il fumo e i farmaci, glucocorticoidi, antiepilettici. Anche durante il passare degli anni, con il passare degli anni ci sono anche delle differenze nella struttura dell'osso tra uomini e donne. In particolare, nelle donne c'è una maggiore percentuale di perdita del numero delle trabecole, è un assottigliamento della corticale, mentre negli uomini c'è un assottigliamento delle trabecole. È la riduzione della corticale che comporta una diminuzione della forza e quindi una maggiore suscettibilità alle fratture. Quindi abbiamo detto che durante lo sviluppo puberale aumenta l'osso, la formazione dell'osso, o meglio, aumenta la massa ossea, e esiste effettivamente un cross-talk gonadi-osso. Nell'uomo, quindi l'LH prodotto dall'ipofisi, agisce a livello delle cellule di Leydig, stimolando la produzione del testosterone. Il testosterone, a livello dell'osso, può agire o direttamente sugli osteociti, osteoclasti e osteoblasti, oppure indirettamente, essendo trasformato in estradiolo, ad opera delle aromatasi che sono presenti anche nell'osso. L'azione degli estrogeni e degli androgeni, gli estrogeni e gli androgeni quindi stimolano la formazione dell'osso e riducono il riassorbimento osseo. Abbiamo detto però che è un cross-talk, e infatti gli osteoblasti producono l'osteocalcina, che ha anche essa un recettore a livello delle cellule di Leydig, e stimola la produzione del testosterone. Però, a livello delle cellule di Leydig, oltre alla produzione del testosterone dell'EH, stimola anche l'idrossilazione del colecalciferolo in 25 idrossi colecalciferolo, che poi a sua volta, a livello del rene, viene idrossilato in 1,25, quindi una forma attiva della vitamina D, che poi va ad agire a livello intestinale e renale, e aumentando l'assorbimento del calcio. Quindi, la formazione dell'osso, diciamo l'osso è un processo appunto di continua formazione e riassorbimento. Gli ormoni, i fattori di crescita come il GH, il Lgf1, citochine, stimolano gli osteoblasti a formare osseo. Però gli osteoblasti liberano anche il ligando del rank, che legandosi al suo recettore, appunto, al rank, a livello dei pre-osteoclasti, ne stimola la proliferazione e la maturazione, e quindi la formazione di osteoclasti attivati, che avviano il riassorbimento dell'osso. Gli osteoblasti producono anche l'osteoproteggierina, che è una proteina che lega il ligando del rank, e quindi, diciamo, blocca il legame al rank, e inibisce la formazione e l'attivazione degli osteoblasti. In presenza di carenza di estrogeni, c'è un'eccessiva produzione di rank ligando, che non viene controbilanciata in maniera adeguata dall'osteoproteggierina, per cui si ha un aumento della proliferazione e dell'attivazione degli osteoclasti con l'aumento del riassorbimento osseo. Quali sono i fattori di rischio dell'osteoporosi maschile? La forma primaria dell'osteoporosi primaria, in realtà, è meno frequente nell'uomo, è idiopatica, quella che appunto avviene in età giovanile, oppure è correlata all'età, quindi all'isopra dei 60 anni. La maggior parte delle forme di osteoporosi sono secondarie, secondarie ad endocrinopatia, quindi come l'ipogonadismo, il crushing, la cromegalia, a disordini gastrointestinali, che appunto riducono l'assorbimento generalmente di calcio e vitamina D, e anche altre patologie sistemiche che agiscono direttamente sull'osso. È molto importante lo stile di vita, quindi l'abuso di alcol, un'attività sedentaria, il fumo, la malnutrizione, sono fattori predisponenti all'osteoporosi. E molto importanti sono anche i farmaci, i glucocorticoidi, gli antipilettici, gli immunosoppressori, ma soprattutto la terapia da deprivazione androgenica che si fa nel carcinoma della prostata. E infatti i pazienti in terapia da deprivazione androgenica nel primo anno di trattamento subiscono una perdita della massa ossea del 4,6%, con un aumentato rischio di frattura. Per la diagnosi, ci ha già detto la dottoressa Foti, quindi è importante l'anamnesi, esame obiettivo, gli esami di laboratorio in realtà non sono importanti, vengono utilizzati soprattutto per la terapia, per valutare la terapia. Mentre molto importante è la diagnosi strumentale, in primo luogo appunto la DEXA, che valuta la massa ossea, e nelle ultime linee guida sulle osteoporosi, sono state proprio pubblicate il 18 ottobre, e è stata inserita la REMS, che è praticamente una metodica radiofrequenza, che quindi è molto facile da effettuare, si può effettuare ambulatoriamente, sono degli ultrasuoni, e sembra che sia sovrapponibile alla DEXA come valutazione della BND. Comunque, la DEXA valuta la densità minerale raffrontata a quella media dei soggetti adulti sani dello stesso sesso, e come ci ha detto appunto la dottoressa Foti, il rischio di frattura è valutata per un tiscoro inferiore a meno 2.5. Nell'uomo però abbiamo visto che c'è una struttura diversa dell'osso, in osteoporosi, cioè praticamente una riduzione delle trabecole, l'osso è comunque più grande, più largo, e quindi c'è la necessità di implementare la DEXA con altre tecniche, altre metodiche. Una sono questi due software che vengono utilizzati, che sono l'IP Structural Analysis, che valuta gli indici di resistenza ai parametri geometrici del femore prossimale, e il TBS, Trabecular Bone Score, che fornisce informazioni indirette sulla microarchitettura trabecolare delle vertebre. E quindi, unendo queste due metodiche, si può avere una più accurata predizione del rischio di frattura. Chi deve essere sottoposto a DEXA? Quindi tutti i soggetti di qualunque età in presenza di un fattore di rischio maggiore, oppure i soggetti di età di maschi superiori a 60 anni in presenza di tre o più di questi fattori di rischio. Quindi un'anamnesi familiare di osteoporosi, un'eccessiva magrezza, l'inadeguato apporto di calcio, il fumo e l'abuso di alcol. Quindi abbiamo visto appunto che il T-score ci dà una valutazione sulla massa ossea, quindi distingue tra normale osteopenia osteoporosi, che maggiore il grado di osteoporosi, quindi maggiore il rischio di frattura. Però non è solo il T-score che ci deve guidare sulla terapia, perché ci sono anche altri fattori che possono condizionare il rischio di frattura. E così come appunto ci ha già detto la dottoressa Potì, utilizziamo questo strumento che è il DEFRA-CALC, è praticamente un questionario, un programma in cui si inseriscono i dati anagrafici del paziente, i dati antropometrici, le abitudini, la densitometria e anche gli eventuali fattori di rischio. E quindi ci dà la percentuale di rischio a cui può andare incontro il soggetto nei prossimi dieci anni. Per la terapia, innanzitutto la correzione dei fattori di rischio, poi l'adeguato apporto di calcio con la dieta o con integrazione con sali di calcio, la vitamina D, l'attività fisica. Chiaramente agli anziani non possiamo chiedere di andare a giocare a pallavolo o a basket e quindi gli consigliamo di camminare per più di 30 minuti al giorno e di eseguire degli esercizi di rinforzo muscolare, di riedicuzione all'equilibrio e alla deambulazione, soprattutto per prevenire le cadute. Per quanto riguarda la terapia farmacologica, anche qui la dottoressa Potì è stata molto esauriente, la terapia farmacologica è regolata dalla nota 79 e io mi soffermo ancora sui pazienti che sono a rischio di osteoporosi i soggetti in terapia da deprivazione androgenica in cui praticamente il trattamento dovrebbe iniziare già associato al trattamento antiandrogenico. In questi casi può essere utilizzato un farmaco di prima scelta sia il bifosfonato ma il denosumab che ha proprio un meccanismo di azione particolare perché appunto andando a legare il ligando del RENC quindi inibisce che è quello che aumenta in carenza di estrogeni e androgeni inibisce appunto la formazione delle osteoclasti e il riassorbimento osseo. In effetti si è visto che il denosumab negli uomini con cancro alla prostata in trattamento di deprivazione androgenica hanno un aumento della massa ossea sia a livello femorale, vertebrale e del polso con una riduzione di nuove fratture vertebrali sia a 12 e a 24 che a 36 mesi. Quindi concludendo è importante valutare i fattori di rischio per individuare quanto prima i soggetti appunto a rischio di osteoporosi correggere gli stili di vita e soprattutto appunto prevenire le fratture di fragilità e soprattutto appunto iniziare il trattamento dell'osteoporosi in soggetti in trattamento con glucocorticoidi o in terapia da deprivazione androgenica indipendentemente dal valore del BND. Grazie.